Salve unici appassionati di Football Manager, qui con voi come sempre c'è Mike 94, ovviamente Football Manager Italia Siamo qui di uno dei nostri Football Manager 2020 con il nostro mitico Gianluco Negrava E oggi andremo tendenzialmente a finire i gironi di Champions League Andremo a giocare le due partite con l'Arsenal Tula e probabilmente poi direttamente il match contro il Red Bull Lipsia Nel prossimo episodio invece andremo a giocare la partita con il Napoli e ovviamente parleremo di calcio mercato Detto ciò direi di andare subito a vedere il big match contro il nostro vecchio Arsenal Tula E devo dire che ci sono diverse novità, hanno cambiato diverse cose Però vabbè, concentriamoci sulla nostra squadra Cesni, Cucurella, Romero, De Ligt, Semedo, Anderson, Chan, Rabiot, Fernandez, Juarez e Cristiano Ronaldo Sono sempre curioso nel vedere appunto l'ora cosa hanno cambiato Dovremmo vincere questa partita senza troppi problemi, almeno spero C'è Bakaev che diciamo vale una fracca di soldi C'è Gairo, ci sono diversi giocatori C'è il nostro Silas che però è in panchina Semedo, attacchiamo subito C'è Anderson, ah non vi ho fatto vedere contro l'Empoli abbiamo vinto E ho fatto giocare praticamente tutti, intanto c'è Chan, bel gol, 1-0 Ho fatto giocare praticamente tutte le riserve, giusto per dare un po' di spazio anche a loro E non fare mai turnover, ho preferito appunto cambiare e farlo tutto in un botto contro l'Empoli Anche perché era una squadra abbastanza abbordabile Quindi niente, abbiamo vinto pure contro l'Empoli Per fortuna sarebbe stato il colmo Sinceramente tutto il rispetto per quella squadra Però ecco, noi dobbiamo cercare di vincere più partite possibili E subito 1-0 contro l'Arsenal Tula Secondo me è questa comunque la candidata ad arrivare almeno terza Lo Slavia Praga Intanto vediamo questa azione e poi vediamo pure la classifica C'è Cucurella sulla sinistra Cross al centro, c'è Cristiano Ronaldo Viene spinto E vediamo subito Ah no, lo Slavia Praga l'ha battuto Mannaggia Mi dispiace proprio tanto per l'Arsenal Tula C'è Cristiano Ronaldo che vabbè sfonda la rete 2-0 Mi dispiace un botto Veramente tanto Vabbè Purtroppo è andata così Cioè sta andando così Dovrebbe provare poi a vincere contro appunto lo Slavia Praga E il Red Bull Ipsia Che adesso sta pareggiando Sarebbe un bene Se pareggiassero contro lo Slavia Praga Intanto anche qui Semedo si stava mettendo in luce Vi ho fatto vedere questa partita Vi voglio far vedere anche l'altra partita con l'Arsenal Tula Perché penso che sia carino giocare Contro la nostra vecchia squadra I due match Lo Slavia Praga insomma Chi se ne frega Con tutto il rispetto Per quella squadra Però penso che sia il più importante Vedere l'Arsenal Tula Sia in casa nostra E poi ritornare anche in Russia E diciamo farci salutare dai nostri vecchi tifosi Non so quanto ci vogliono bene Perché comunque ce ne siamo andati Praticamente chiedendo le dimissioni Però insomma Comunque abbiamo fatto tanto per quella squadra Per questa squadra E quindi Spero che non ci vogliono più di tanto Poi che sia anche normale Che un allenatore dalla Russia Accetti La chiamata della Juventus Intanto c'è Semedo sulla destra C'è Rabbio che sia infortunato Non me ne dimentico C'è Sampero che prende il pallone C'è il contropiede Della squadra russa Della nostra vecchia squadra Attacca ancora sulla sinistra De Ligt cross al centro C'è Cucurella Bacaeva ragazzi Che cazzo Stiamo combinando Ma con tutto il rispetto Per l'asse in altura Però Dai Non facciamo scienza Vabbè Rabbio Lo tolgo Il problema che c'è anche Ramirez Che è infortunato Quindi Io non sono molto felice Della prestazione Che cavolo 2 a 1 Stiamo pure rischiando Leviamo Rabbio Dai Mettiamoci Pjanic Che è contento Che gli stiamo dando fiducia Dopo l'infortunio Comunque l'abbiamo subito Buttato nella mischia Per lo staff Addirittura Rabbio è più forte Di Pjanic Ma tecnicamente A me piace un po' di più Poi vabbè Li sto alternando molto I due Ci sono dei gioca Minchia che botta Ci sono dei giocatori Che faccio giocare Molto di più Nel senso che comunque Sto dando spazio Anche loro Nonostante siano Dei panchinari Ad esempio Rabbio Cioè ad esempio Fekir Anche se Nello scorso episodio Ha sbagliato Tutto quello Che poteva sbagliare E no Red Bull Ipsi Qua sta Sta vincendo Ha segnato Fanno anche un cambio Chi entra? Tau Non è un Mi acquisto Giocatore abbastanza veloce Però vabbè ragazzi Pure sta partita Assolutamente Era da vincere Dobbiamo Ingranare Perché non mi sta Molto piacendo Questa Questa Juventus Ovviamente non è che Possiamo vincere Tutte le partite 90-0 Però ecco Sudarcela Fino all'ultimo Con l'arsenaltura Direi che Per quanto sia Una squadra costruita Da noi E anche Abbastanza bene Ecco Dobbiamo cercare Di giocare meglio Intanto C'è Anderson Cucurella Tira Ma poteva sinceramente Anche evitare Quel Tiro Obrobbioso Almeno sta partita L'abbiamo dominata Facciamo L'ultimo cambio Leviamo Cristiano Ronaldo Mettiamo il Kun Aguero E diciamo Che possiamo anche Terminare qui Le danze Con una buona vittoria Anche se Comunque Se non sbaglio Appunto Che pure il Red Bull Lips No Oddio Ha vinto lo Slava Praga Segnando due Gole all'ultimo E questo Ragazzi È un risultato Importantissimo Perché direi Che ci rende Le cose Molto Molto Più semplici Bene così Grande Slava Praga Che praticamente In un minuto Vince la partita Buon per noi Ripeto Ci ha reso le cose Leggermente Più Easy Contro la Fiorentina Abbiamo vinto 2 a 1 Grazie al gol Di Cristiano Ronaldo E di Suarez E poi contro il Benevento Abbiamo vinto 1 a 0 Grazie al gol All'ottantanovesimo Di Cristiano Ronaldo È stata una brutta partita Lo ammetto Ho anche schierato Praticamente la Juve 2 Mettendo tutte le riserve Però poi alla fine Il gol arriva solamente All'ottantanovesimo Grazie al gol Di Cristiano Ronaldo È dura ragazzi Devo dire che è difficile Perché si stiamo Vincendo Però non stiamo molto Convincendo La cosa può anche essere Realistica Perché alla fine Gianluca Grava È un allenatore Che fino a 3 anni fa Allenava nella terza serie Inglese Nella League One Incominciando lì La sua carriera E dopo 3 anni Si ritrova ad allenare Una delle squadre Più forti in Italia E soprattutto Che vuole vincere E deve convincere E non vince solamente Il campionato Ma anche La Coppa Nazionale La Champions League Quindi obiettivi Non semplici Per un allenatore Quasi Quasi Inesperto Quindi sarà dura Poi ragazzi In Serie A Io ho visto Il Milan Ad esempio C'ha Guardiola Il Napoli C'ha Zinedine Zidane Ma il Napoli Ha uno squadrone Incredibile Merette Ospina In porta Confermati E mica male Poi In difesa Non ne parliamo Hanno preso Giordi Alba Giordi Alba E Intanto c'è Semedo Poi Hanno preso Dyer dal Tottenham Kanté dal Chelsea Eriksen dal Tottenham Poi Che hanno Dembélé In attacco E hanno preso Belotti Come vice attaccante Poi c'hanno Insigne C'hanno creato Una squadra Veramente Mostruosa E Pensate che Kanté adesso Sta giocando Come panchinaro Ha fatto solamente Due partite E' una cosa Incredibile E intanto c'è Semedo Semedo E questo ovviamente Rende le cose Molto Molto più difficili Io In estate Ho fatto Un mercato Diciamo Low cost Alla fine Non ho speso Molti soldi Se non nessuno E Perché alla fine Io mi diverto Così intanto Arriva la doppietta Di Romero Perché sapete Che Principalmente A me piace Spendere poco E guadagnare di più Però Probabilmente A gennaio Dovremmo fare Tre colpi Alla fine Questo ci permette La Champions League Di fare solo Tre sostituzioni Ma tre colpi Mirati Tre colpi Con la C Maiuscola Tre giocatori Fortissimi Tutto ovviamente Dipenderà un po' Anche dal mercato Intanto arriva Niente Bell'assist Di Cristiano Ronaldo Dipenderà ovviamente Dal mercato E un po' Anche Dobbiamo vedere I giocatori I big Che possiamo Comprare Perché ovviamente Ad oggi I giocatori Forti 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 Costano 100 milioni L'uno E noi non ce li possiamo Permettere Proprio per questo Dobbiamo un po' Valutare Perché in tutti i reparti Effettivamente Abbiamo comunque Una stella Abbiamo Un giocatore forte Ne so In difesa Vabbè In porta abbiamo Shesny In difesa abbiamo Delict Ma anche se Medo schifo non fa Poi a centrocampo Abbiamo Tre buoni giocatori Ma forse Nessuno Top 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 Abbiamo Bruno Fernandez Che è la nostra stellina Però neanche lui sta Brillando più di tanto E in attacco Abbiamo Sì Suarez Ma Ovviamente L'età si fa sentire Abbiamo sì Il Kun Aguero Ma anche lì L'età si fa sentire E poi abbiamo Cristiano Ronaldo Che Diciamo Anche lui Non è proprio Di primo pelo Ma sicuramente È il nostro Gioiellino Il nostro giocatore Più importante Più rappresentativo Direi meno male Per tutti i soldi Che si prende E E quindi Ripeto Possiamo anche provare A pensare di fare Un colpo Per reparto Una difesa Una a centrocampo E uno in attacco Vediamo Vediamo Perché in difesa Penso che potrebbe essere Cambiato il terzino-sinistro E il difensore centrale A centrocampo Mi piacciono Mi piacciono Sia Anderson Che Pjanic Che Emre Can Però ecco Qualcuno Di veramente Incredibile Può essere Può essere portato Intanto Leviamo Bruno Fernandez Leviamo pure Semedo Che stanco Anche se comunque Ha giocato una buona partita E Io Leverei Pjanic Sia per la stanchezza Ma anche Per evitare Espulsioni Anche se Vabbè la prossima È contro Slavia Praga E quindi Secondo me Questo è quello Che poi Dovremmo fare A gennaio Dobbiamo cercare Tre colpi E Migliorare Incredibilmente Questa Juventus Che In fin dei conti È già fortissima Cioè Questa squadra Ovviamente Intanto Un altro gol di Suarez In Portogallo In In Russia Ma secondo me Dio In Francia Giocerebbe col PSG Comunque In questi campionati Sarebbe La squadra più forte Del mondo Cioè no Del mondo Di quel campionato Una squadra incredibile Qui in Italia Diciamo Abbiamo un po' più Di difficoltà Considerando che Appunto Le squadre Si sono rafforzate Non di poco Non voglio dire Che siamo diventati Quasi Un campionato inglese Quasi una Premier League Ma insomma Il livello È aumentato E non di poco Intanto Vabbè Comunque Iniziamo 4-0 Contro l'Arsenal Tula Fatto altri Cambi tattici Sto un po' cambiando Perché vorrei trovare La quadratuta Del cerchio Dopo l'1-0 Col Benevento Ho capito Che andava fatto Qualcosina E vabbè Per fortuna Siamo andati bene Oggi Giusto per ragazzi Red Bull L'Ipsia Ha battuto Lo Slavia Praga E quindi Tendenzialmente Vi faccio vedere Adesso La partita Con lo Slavia Praga Perché se appunto Li battiamo Siamo automaticamente Primi Perché andremo A 15 E quindi Red Bull L'Ipsia Mai Ci potrà Recuperare Quindi Un piccolo Cambio di programma Andiamo direttamente A vedere la partita Con lo Slavia Praga E poi vabbè In caso di vittoria Vi salto Cagliari Red Bull L'Ipsia Farò Credo Qualche amichevole Visto che C'è un Ci sono quasi due mesi Di pausa E poi andremo Nel prossimo episodio A vedere la partita Con il Napoli E a parlare Ovviamente Di calciomercato Contro la Salernitana Abbiamo vinto 3-1 Grazie alla doppietta Di Cristiano Ronaldo God di Cucurella Andiamo a giocare Contro lo Slavia Praga Di nuovo con La titolarissima Sperando di Portare a casa I tre punti E basta Insomma Perché così Riusciamo direttamente A qualificarci Per primi Non abbiamo paura E non abbiamo pensieri E potremmo aiutare Il nostro Arsenal Tula Anche se dovrebbe vincere Sia contro Red Bull L'Ipsia E sia con l'Arsenal Tula Quindi Eh sì Scusate Sia contro lo Slavia Praga Quindi Non sarà affatto facile Intanto qua Non ho ben capito Che cosa è successo Ho visto solo gente Che si stava ammazzando Intanto c'è Pjanic Niente Ancora 0-0 Però a quanto pare Stiamo iniziando A giocare bene Dopo la partita Con l'Arsenal Tula Abbiamo ingranato Insomma 4-0 con loro 3-1 Con la Salernitane Speriamo anche Oggi Di fare un bel risultato C'è Suarez Che la passa Cristiano Ronaldo C'è De Ligt Emre Canna La spara in avanti C'è Semedo Semedo dovrebbe Passarla al centro C'è Un casino Incredibile Ragazzi E poi arriva il gol Di Cristiano Ronaldo Sinceramente Non riuscivo neanche Bene a commentare Perché Non si è capito nulla Rivediamo Bene l'azione Bravo Qui Semedo Ripeto In questa tattica I terzini sono sempre Molto importanti C'è Suarez Che scivola Poi Cristiano Ronaldo E poi vabbè Insomma Va in pappinamenti Poi però Arriva il gol 1-0 Dopo neanche 11 minuti Stiamo giocando Subito alla grande Questa è la seconda Occasione importante Bene così Però Cerchiamo di fare Anche il 2-0 Onde evitare Qualsiasi tipo di rischio L'Arsenal Tula Deve ancora giocare Non gioca In concomitanza con noi Peccato C'è Semedo Cristiano Ronaldo Semedo La passa Henderson Henderson Cucurela Cross al centro Suarez La spara Ma Fra le braccia Di Collar Ancora Niente O meglio Stiamo ancora solo Sull'1-0 Cucurela Pjanic Pjanic per Henderson Henderson per Cristiano Ronaldo Dai e Cristian Niente Capasele Azione lunga Vabbè Viene subito sfumata C'è Semedo Semedo La passa di Cristiano Ronaldo La passa di Mere Shan Difesa Mal posizionata C'è Sicora Bravo qui però Scesni Che para E non Non fa segnare Lo Slavraga In contropiede Devo dire ragazzi Che stiamo Giochiamo molto bene Giochiamo molto bene Sulle fasce Ma Bruno Fernandez Non pervenuto Cioè Praticamente Non fa nulla Non so È come quasi Se giocassimo In 10 Perché Difendere Non difende L'attacco Parte tendenzialmente Dalle fasce Non ho detto io Attaccate solo Sulle fasce Quindi Non lo so Eppure è un ottimo Giocatore Potrei anche provare A metterlo Indietro Però Non lo so Non lo so Mi dispiace Perché Mi aspettavo Qualcosina in più Da lui C'è Cucurela Su Suarez C'è Mere Shan Adesso segna Tipo C'è Cristiano Ronaldo No Segna lui Cristiano Ronaldo Ma forse è fuorigioco Vediamo Fuorigioco di Suarez E che c'entro Ah Sì Vabbè Fuorigioco Peccato Peccato veramente Però vabbè Siamo ancora su 1-0 Questo è l'importante C'è però Cristiano Ronaldo Che è un po' stanco Potremmo C'è anche Cucurela Si fa male Ti prego Niente di grave Spero Sta giocando bene Cucurela Devo dire la verità È un terzino Che mi piace Abbiamo pagato poco Però Intanto Palo Dello Slavia Praga E poi Scesni Vabbè Leviamo Cucurela Mettiamo Pellegrini Leviamo Semedo Mettiamo Danilo Che i terzini sono abbastanza stanchi E si vede Io Voglio provare a fare questo Voglio mettere Fernandez Li Proviamo il Kunaguero Mettiamo il Kunaguero Trequartista È un po' L'assurdità Effettivamente Ho fatto forse una scemità Dovevo mettere Ramsey Vabbè Spostiamolo qui davanti E facciamo la classica cosa Ho messo tre punte Aguero Cristiano Ronaldo E Suarez Gioniamo molto più offensivi Però sono curioso adesso Di vedere Che cosa combinano C'è Suarez Aguero Che fanno le seconde punte E poi uomo d'aria Cristiano Ronaldo So che su 1-0 Una mattanza Una cosa pazza Però Vediamo Anche se probabilmente La partita È quasi finita Mancano Tre minuti Attacca adesso Ancora la Juve C'è Bruno Fernandez Forse è contropiede Lo Slavia Praga C'è Danilo Che difende il pallone La passa di nuovo A Bruno Fernandez Che però Per recuperare il pallone Scivola Poteva anche Effettivamente lasciarlo Bravo qui Scesni Bella parata Però abbiamo rischiato E anche abbastanza Inutilmente C'è Romero La va a prendere Non facciamo cretinate Proprio all'ultimo Henderson La passa Al Kun Aguero Al Kun Aguero Sulla destra Da Yekun Da Yekun Cross al centro Non arriva il pallone Ancora lui però C'è Suarez Che non salta nemmeno Almeno prova Ci per sfizio Giusto Verdice Almeno Prova a buttarla dentro Ma proprio no Pellegrini Ne è entrato La passa Ad Henderson Henderson Per Emre Can Emre Can Perde il pallone Mannaggia a te La partita però è finita Sì infatti Vabbè 1 a 0 Non una partita Buon primo tempo Però Il resto Non è stato Gran che Potevamo sicuramente Giocare meglio Infatti Lo faccio notare Alla squadra E quindi niente ragazzi Con una partita Di anticipo Siamo già qualificati E già primi Matematicamente Meglio per noi Meglio così Perché possiamo poi Concentrarci Direttamente Sul campionato Dobbiamo giocare La partita con il Cagliari Che ovviamente vi salto Iden Compatate La partita con Red Bull Lipsia Però ovviamente La partita con Napoli Va vista E poi ovviamente Parleremo di calcio e mercato Ma tutto questo Nel prossimo episodio Quindi Detto ciò Io spero che questo video Vi sia piaciuto Come sempre C'è like Commentare Condividete Fate tutto ciò che vi pare Sempre grazie per tutto E come sempre Un saluto da Mike94 E anche da Football Manager Italia Ciao ragazzi